A differenza della parte occidentale, l'impero romano d'Oriente rimase in vita per più di un millennio, fino alla conquista da parte dei turchi ottomani nel 1453. Durante questo lungo periodo l'impero d'Oriente o impero bizantino, dal nome originario Bizanzio della sua capitale, si considerò l'unico erede e detentore legittimo dell'autorità imperiale romana, oltre che proprietario dei territori occidentali. L'impero bizantino dunque non fu qualcosa di diverso dall'impero romano. Fu romano nella forma politica e cristiano per religione, anche se greco per lingua e cultura. I suoi abitanti, non a caso, continuarono fino alla fine a volersi chiamare Romani e Romania era il nome che davano all'impero. Proprio per questo, gli imperatori bizantini cercarono in ogni modo di influenzare le vicende politiche della parte occidentale e, in alcuni casi, di ricostituire l'unità territoriale dell'impero romano. Uno di questi imperatori fu Giustiniano I, imperatore dal 527 al 565. Egli coltivò un progetto molto ambizioso, la Renovatio Imperii, ossia la ricostituzione del grande impero romano. Il suo obiettivo era quello di unificare tutto il mondo allora conosciuto sotto un unico sovrano e un'unica fede, quella cristiana cattolica. Per realizzare questo ambizioso progetto, Giustiniano si adoperò in ogni modo per raggiungere la completa unità dell'impero dal punto di vista politico, religioso e culturale.